Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale Oggi video velocissimo in cui vi annuncio che domani in stazione centrale a Milano vi troverete al temporary shop di Urban Decay è una cosa fighissima perché potrete vedere i makeup artist di Urban Decay operare sul mio viso e realizzeranno un look che hanno chiamato Urban Decay Perversion è un look tutto incentrato sugli occhi, sulle ciglia insomma sarà un look molto figo, aggressivo naturalmente come potete vedere non possiamo fare qualcosa di naturale, tranquillo e pacato con me sarò lì dalle 15 alle 18.30 quindi io vi aspetto numerose per scoprire insieme questo look Urban Decay super aggressive e scoprire appunto i prodotti Urban Decay e farci tante chiacchiere insieme insomma finalmente ci possiamo conoscere io vi aspetto e ci vediamo domani da Urban Decay ciao